Io trovo comunque un errore quello che ha fatto Andrea Agnelli, un errore di comunicazione, un errore di buona educazione, ma anche un errore calcistico perché ho sentito poco fa dice forse per dare una mano all'allenatore, ma direi assolutamente il contrario perché se l'ha fatto per chiarire le cose all'allenatore deve invitare Del Piero ad andarsene a fare un viaggio fino a maggio e l'allenatore è tranquillo, ma se lo deve tenere in panchina, avendogli fatto capire che gli sta sulle balle, io credo che con Del Piero è come avere un focherello vicino a una fabbrica di dinamite. Del Piero meritava altro, ma dal punto di vista guarda, io l'ho criticato tante volte quando batteva la fiacca, dal punto di vista proprio pratico, un annuncio di questo genere a ottobre quando c'è davanti tutto un campionato mi sembra veramente una scemenza. Dico io cos'è successo, che già cominciavano a circolare le voci che Del Piero e qualche altro anzianotto avevano problemi con la preparazione, nel senso che Antonio Conte fa lavorare come dei fabbri e sembrava che uscissero dal spogliatoio delle voci di dissenso che a Torino poi non mancano mai. Ecco questo può avere affrettato una dichiarazione del genere, ma fatta in maniera del tutto infelice. Io posso solo ricordarvi che nei corti di Del Piero tutti hanno riproverato soltanto una persona, Fabio Capello, che lo mandò in panchina. E Fabio Capello a quel tempo mi diceva che sto allungando la carriera, cosa che si è puntualmente verificata, gli è stata allungata la carriera e Del Piero si è reso disponibile, ha imparato che non doveva scalpitare e nonostante questo è venuta fuori questa decisione abbastanza sballata. Antonio è un giocatore nuovo, otto mesi.